Wella ragazzi, ciao a tutti le nicchie raga, bentornati qui su Starfield, episodio numero 3 si prosegue. Allora ragazzi, ho aggiornato i driver della scheda video perché mi ero dimenticato di farlo. Vediamo se magari adesso va un po' meglio il gioco, chi lo sa. Non è cambiato moltissimo, però magari forse un po' andrà meglio. Comunque, vediamo un po' chi sono questi tizi qua fuori. Sì, collaboro con Barrett. Brogan, sono un membro esatto, ucciso, attacca... Ah, che problema aveva... Ah, uno dei strunze, esatto, ucciso Barrett, quindi di ai due amici perati di starmi lontano. Mi spiace l'aname, non te la do. No, no, no. Spesce di formiche... Ma io direi di no. Attacca... Oppure persuadi. Ci proviamo? Niente. Niente, 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 sì, sì, non l'ho persuaso, l'ho capito. No, constellation... Ecco, forse era meglio che leggevo. Farti fuori sarà proprio divertente. Ehi, se vuoi commerciare in navi per me va bene. Constellation non sono cacciatori di tesori. Ma che vuol dire? Turni. Oddio, a turni? Era meglio se leggevo. Persuasione automatica. Non funziona. Ma sì, farti fuori sarà divertente, va. Sì, me lo so rotto pure io. Non ho capito la cosa com'è andata. Io veramente pensavo, non c'è niente da fare, bisogna combattere. Che di persuadere... Dico, boh, non ci riuscirò mai. E invece... Allora, cerca l'icona della tua nave e premi E dopo averla selezionata. E dove che è? Ah, stavo a diventare pazzo perché ero dentro l'edificio. Non funzionava. Dico, to reach the lodge, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system and then land in the city of New Atlantis. Do not worry, this will all become second nature before too long. Ok. Effetto un viaggio rapido dal menu missioni, premi tab. Ok. Seleziona missioni nella sezione in basso. Missioni, missioni, sezione in basso. Missioni, eccolo qua. Seleziona la missione da seguire tramite l'interfaccia. È possibile seguire una sola missione per volta. Ah, ok, ho capito cosa vuoi dire. Ok, allora. Premi R per impostare automaticamente una rotta verso il prossimo obiettivo. Effetto missione. Imposta rotta R. Oddio. Ah, ok. Salta. Quindi da Narion andiamo ad Alpha Centauri. Ok. Eh, un po' mi spiace che non c'è una vera esplorazione, cioè, del tipo come No Man's Sky, che decolli e vedi il cambio di atmosfera. Maintain course and prepare to be scanned. Donai contrabbando. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Ok. E come si fa? Beh, innanzitutto magari acceleriamo. Non posso accelerare. Dovrei togliere un po' di grav. Non so manca a che serve. Sì, beh, ma come si fa? Ups. Bombardo il pianeta. Aspetta, no, un momento. Ma in teoria non era così che si atterrava nei pianeti. Bisognava andare qua. Atterra a Nuova Atlantide. E appunto, così si fa. Ok. Allora, il quartiere dello spazioporto di Nuova Atlantide ha attraversato... E siamo arrivati. Vediamo un paio. Io ho bisogno di trovare uno per vendere la roba che ho. So pieno di roba. Mi serve vendere. Protocollo Indaco. Sì. Ops. Mi sono perso qualcosa. Mamma mia, però, graficamente, tanta roba. Allora, dov'è che devo andare? Ah, ok. Uh, quanta gente! Funzionerà, funzionerà. Funzionerà, funzionerà. Diciamo, mi sono un attimo avvicinato a questa discussione perché, ora che ci penso, raga, è possibile che ci sono... Ecco. Ecco, ecco, esatto, esatto. È quello che stavo per dire. Cioè, ho pensato, sicuramente ci sono delle missioni secondarie in giro. Sicuramente ci sono missioni secondarie. Allora, dove devo andare? Qui devo prendere il treno, tipo. Quartiere del Tartasambo. Ok. Tutto molto bello. Tutto molto bello. L'unica cosa che mi manca... È tutto molto bello. L'unica cosa che sinceramente mi manca... È proprio il fatto di tutti questi salti. Tutti questi spostamenti tramite filmato. Avrei preferito veramente quasi godermi il viaggio con questa specie di tram. O il decollo e l'arrivo nel pianeta. Sarebbe stato più immersivo. Sarebbe stato più... Come dire, mi sento lì. Sto effettivamente vedendo che viaggio verso la destinazione. Invece è un click. È un po'... Questo è quello che mi spiace. Questa è l'unica cosa che di questo gioco mi sta dispiacendo. Questi viaggi rapidi. Questi salti... Con i filmatini. Perché per il resto... È bello, ovviamente. Ma lui deve venire dietro tutto il tempo? Allora, vediamo un po'. Dove dov'è vanno? Mi pare quasi di essere su Jurassic Park con questi cancelli. Il loggio. Il fronte d'orario dovrebbe uscire. Il fronte d'orario dovrebbe uscire. Se guardi il loggio che ti ha dato. Oltretutto. Quindi la loggia è tipo casa nostra. Ti è accorto di O2. Ma dove si vede? Ok. Walter Strude. Sì, ma un momento. Ok, fammi capire sta cosa che dice che so senza ossigeno. Dove si vede meglio? Quanto rilevato, no? Come si fa a capire quanto ossigeno mi resta? Non lo so. Non lo so. Aspetta, ma io il casco non me lo posso togliere. Io vado in giro col casco da sempre. Ma voglio dire, che fa? Non c'è l'ossigeno qui? Voglio dire, mica stiamo nello spazio. Perché non mi tolgo sto casco? Perché è quello che mi sta fregando. Vediamo, se non ci crepo. Nascondi i casco in zone irrespirabili. Ma non si può fare in automatico. Nascondi. Boh. Ma non lo sto a capire. Nascondi. E ce l'ho detto è la teoria più impossibile. Salve! Benvenuti a Constellation. Abbiamo molto da parlare. Ok. Che ne so, non voleva venire. I pirati ci hanno attaccato. Barrett mi ha chiesto di consegnarvi il manufatto. Ma veramente sono andato dritto qua. Appunto, Matteo, io lo do. Allora... Ma sì, luce brillante e musica. Ok. Buongiorno. E per immaginare, pensavamo che c'erano solo due di queste cose. Ma non è che alla fine diventa una specie di globo. E infatti sta diventando una specie di globo. Esatto, ci sono io. Che famo? Esatto, ci sono io. Che famo? E se vuoi guidare in questo piccolo universo dei nostri? Eh beh, sì. Che sono venuto a fare, sennò? Va bene, sono dei vostri. È tutto un po' troppo. Cosa sapete? Dei manufatti cosa sono? Individuamente, sono solo dei manufatti di metallo. Un'altra addirittura dagli riusciti di spazio. Per quanto sono? Quanto stanno construendo? Beh... Tu sarai parte di soluzionare questo puzzle ora. Già. Quando li trovi tutti, che succede? Va bene, sì. A che serve? Va bene, va bene, vai. Sono uno dei vostri. Costellation. Introduscivi a tutti. Alcuni dei nostri membri non sono qui, ma li troverai pronto. Vi trovi quando sei pronti. Tu e io stiamo facendo un po' di viaggio insieme. Prendete i piedi fuori. E qui? Credo che hai ottenuto qualcosa per portare l'artifatto a noi. In addition to credit... Why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Ok, mi hanno dato punti esperienza. Crediti e un jetpack mi hanno dato. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Ok, parla con Sara oppure parla con gli altri. Ma io prima di parlare con loro vorrei andare a farmi i cavoli mia un attimino. Un attimino prima di andare da questi. Voglio fare una cosa. Mi serve un mercante perché ho lo zaino pieno di roba. E non è che qui tra un po' non possiamo trasportare niente. Quindi fa parte del gioco liberarmi lo zaino. Abbiamo già 9000 crediti, vuoi? Ok, allora, mi serve trovare qualcuno che vende qua. Si può una mappa che mi mostra cosa c'è? Allora, bene, vedo che qui abbiamo diverse cose. Ok. Non si sa cosa c'è in questi posti. Me li posso segnare? Posso metterci un punto? No? Non so come segnare questi posti, caspita. Allora, eh, quello è il problema. Che ha detto? Mi sono perso. Parla col seggente Yumi. Si. No, aspetta, è che... No, per ora mi... Madonna. Oh, che bei salti che si fanno qua. A me interessa trovare un mercante. Poi posso andare avanti con la mia storia. Cos'è sta cosa? Punto informazione. Eh, buono, punto informazione. Buono, eh. Benvenuti. Nostro edifici e servizi. Gal Bank. Autorità, essere commerciale. Pozzo, pozzo. Commerciale. Infermeria. Eh, ma ho capito. Ok, ci sono questi posti. Me li segni nella mappa? Oddio. Cittadinanza. Cittadinanza. La base, città, popolo, individui. Ah, vabbè, se volessi far parte come cittadino, che in teoria già lo faccio parte. Ehm, vabbè. Vabbè. Ehm, vabbè. Vabbè. Ehm, vabbè. Ehm, vabbè. Ehm, vabbè. Ok, si può vendere? Ok, si può vendere? Commerciante acquista. Eh, se volessi vendere? No, vabbè, ma a me non... Sì, ok, tutta roba interessante. Probabilità persuasione. Quando è che costa sta roba? Settecento? Sinceramente non saprei. Recupero, recupero. Sì, ok, c'è probabilità persuasione che potrebbe anche aiutare. E ce n'è più di uno. Sì, potrebbe... Alla moda, persuasione. Che me frega, mo ne andiamo, eh. Questo? Mi piace. Ok, ne compro uno. Ma come si vende? Ehm, confront... Ah, vendi. Tutto. Ah. Ne ho due di questi che sono uguali. Ma valgono poco. Tutta Minatore, tuta Argos. Via di questo, va. Va bene. Arrivederci. Sì. Sì. Allora, intanto... Vabbè, me lo metto sto vestitino nuovo. L'ho pagato caro, non vale più niente già. Neanche l'ho indossato già e usato. Allora, vediamo se troviamo uno che vende armi. Che così gli vendo le mie. Questa è una specie di ristorante. Medica. Eh, embassy. Eh, ambasciate. Le ambasciate. Sono tornate indietro praticamente. Caspita, eh. Oh, eh. Occidente. Aspetta, qua a rischio. Se corro troppo. Cos'è questo? Ma che è un altro negozio di vestiti? Ah, questo vende cibo. Ok. Ok. Provviste. Lui vende provviste. Ok. Vabbè, sinceramente... Vende tanta roba, non c'è dubbio. Recupero ossigeno per tre minuti. Dammene uno. Sinceramente non saprei proprio... Ma quanto costa sta roba? Ciccio. Ma tu caro sei. Porche miseria. Ma te la roba te la vendi cara? C'è l'inflazione in sto pianeta... E' da paura. Formaggio 55 euro. E che, uh. Buono, compro tu cavolate, basta. Ah, ciao. Sì. Sempre un piacere per te, mica per me. Io so povero. Me ci fai diventare povero. Se il cibo costa tanto, quanto costano le armi? Un'altra torre. Arsenal. Magari qua vendono le armi. Arsenal. Proprio qua volevo venire, signori. Sì. Sì. Eh. Eh. Ok. Ok. Sì. Va bene, allora. A me interessa vendere, che io so strapieno. Dunque. Non ti do le munizioni che me possono servire. Ti do un'ascia perché ne ho due. Ti do... Una pistola perché ne ho due. Di questo ne ho due. Di questo ne ho addirittura quattro. E di questo... No, queste me le tengo. Questo ne ho due. E basta. Diciamo se ho tolto un paio di cose di dosso, no? Va bene così. Torniamo indietro. Torniamo... Questo è lui. No, no. Voglio... Vorrei vedere che vendi tu adesso. Tu che vendi? Acquista tutto. Ok. Le munizioni... C'è un modo per capire quante ne ho io? Faccio fatica con le munizioni. Dovevano semplificare un po'. Dovevano semplificare del tipo... Tu hai quest'arma, hai tot munizioni. Ne vuoi ancora? Questa costa parecchi soldi. 27.000. 1.600. Sì, vabbè. Ma che me ne faccio di così tante armi? Tanto poi si trovano in giro. A me l'unica cosa che realmente serve sono le munizioni. Le armi ce le ho. E sinceramente l'unica cosa che mi può interessare sono le munizioni. Allora... Che non so neanche quali uso. Non lo so neanche. Perché dipende dalle... Armi che ho. Cioè... Che tipo di munizione usa quest'arma? Ah, là è scritto. 777... 6 e 5... 6,5. Allora, 777... E 6,5. Vabbè, calibro 27. Non mi ricorderò mai tutte ste cose io. 7 se... You know? I'm sure we can find something that suits you. Sì. Allora, munizioni. 777, 6,5. Ma ce n'è più di uno? Madonna. Vabbè, dammene... Mizzica quanto costa, no? Dammi... Questi. 8 pacchi. E 777, senza boss lo dicevamo. Mmm... Queste dammene... Sempre 200 dollari. E calibro 27... Me ne dai... 200 dollari. Ah, post! Vabbè, ho speso 600 dollari in munizioni. Oh, e questo era quello che... Questo è quello che è importante nel gioco, ovviamente. Vendere quello che hai. Tecnicamente ho altra roba da vendere. Tecnicamente ho altre cose da vendere, però... Però il problema è che il gioco, se non mi spiega un po' dove trovare gli edifici... Allora, andiamo alla loggia. In teoria c'è il viaggio rapido, è perfetto, almeno quello. Allora... Dopo aver perso 10 minuti per vendere le mie armi, acquistare un po' di... di munizioni e del cibo... Direi che adesso possiamo magari fare due chiacchiere con sto tizio. È vero. Ho sentito di peggio, compà. Sì. Sì. Ok, lui è il capo. Lui è il capo di Stroud. Grazie, in futuro tieni. Spero che il drink... Vabbè, non mi interessa di farla di queste cose. Allora... Vabbè, sì, ma... Vabbè, non mi fa di far chiacchiere con tutti, tanto. Mi sa che non porta a niente di che. Ehi. 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 Tutto a posto. Tutto ok, quello che devo farlo ho fatto. Tutto ok, questo è il nodo, lo sapete... Tutto ok. Eh. Ok. Ok. Cos'è quest'avanguardia UC? Volontà. Volontà. Ok, quindi tipo potrei far parte di questi... Missioni, penso. Vabbè. Va bene, ok. Ah, ok. C'è un'elettricità nell'aria quando sai che sei a scoprire qualcosa. Ok. Ma non è solo questo. Voglio prendere questa opportunità per vedere come ti gestisci. E per te per imparare più su noi. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Ho capito. Ah, ok. Se continui, selezioni Sara come tuo seguace. Sì, vabbè. D'altronde di Vasco mi ero un po' stancato e pericoloso. Ok, va bene. Allora, praticamente dobbiamo andare a indagare perché a quanto pare forse è stato trovato un altro manufatto, però non è detto che è veramente un manufatto. Quindi si va con Sara a verificare se effettivamente c'è un altro manufatto. Ok. Non devo comare. Intesi. Bene. Andiamo. Andiamo a indagare. Impossibile concedere Sara Morgan. Vabbè, sì, lo so. Siamo in missione con lei. Andiamo, Sara. Ciao, Vasco. Mentre che non ci sono, fatti una cantata. Andiamo. Un po' di karaoke. Li mettiamo a Vasco. Ehm. Mentre che non ci sono, fatti una cantata. Ok. Devo andare lì, penso. Ma non è che c'è il viaggio rapido per pura casualità. Tu cacchio è sto posto. Qui. Uh, c'è il viaggio rapido, vai. Non c'è mica voglia di far male a piedi. No, no, no. Qui almeno. Cioè. È vero che ho detto mi piace rapido. Ah, dobbiamo decollare. È vero che ho detto mi piace camminare, però già la strada l'ho vista una volta. Vabbè. Decolla. Ma quel tizio! Non so se avete notato, ma nella piattaforma di lancio c'era un tizio. Si è preso in pieno proprio le fiamme dei motori. Lui tranquillo. Tranquillissimo, lui. Scusa, ma fammi capire. Ma dove stiamo andando? Pare quasi che devo tornare dove ero prima. Non ho capito. Ma scusami. Parla. Ma siamo decollati senza motivo? Ecco. Boh. Non l'ho capito. Siamo decollati per riatterrare. Boh. Lei eppure ha detto decolliamo subito o aspettiamo. Quindi ho pensato, vabbè, dobbiamo decollare. Se lei dice così. Oppure abbiamo fatto una specie di viaggio per spostarci di 100... Boh. Praticamente ci siamo fatti un volo tanto per. Menomale che non consuma benzina, nafta, plutonio, niente. Menomale. Sì. 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 Quello che ho detto prima. Mi piacerebbe... Sì. Eccala là. Eccala là. Sta bene. Sta bene. Non lo so, John. Ho bisogno di tornare a tornare in quella fai. Ho bisogno di tornare dopo averlo in quella faiata di te. Non lo so, Sarah. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so di te e il nostro piccolo negozio. Ho prometto. Prima cosa prima. Andiamo all'area orientazione. E ti saluto al terminal registrato. Il sistema ti attraverà nel resto. Ok. Se hai una bambina? Beh... Tu devi fare le cose giusto con l'UCI. Prima di lasciarti. Se hai alcune domande, posso portarti. No. 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 Mi interessa solo capire che devo fare. Dove stanno le missioni? Missioni. Allora, praticamente, prima di andare avanti... Sostituire o rimuovere destinazione. Ma che vuol dire? Non sto a capire. Ma che... Che chi è sta roba? Parla col sergente, parla degli alloggi. Mi sto a confondere. No. Non sto a capire come funziona. No. Il processo inizia con la registrazione. Nell'area orientazione. O avevi una domanda? No. No. Voglio registrarmi. No. Non ho domande. Forse deve entrare. Ma dove? Allora, c'è una... C'è una... C'è una questione che... Ok. Qua è dove ci stanno le missioni. Finalmente l'ho trovato. Allora. Supra ed ultra. Primo passo per unirsi all'avanguardia. Questa voglio seguire di missione. Oh. Ecco fatto. Finalmente. Eh, se non mi dava il punto successivo non sapevo mica dove andare. Sala di orientamento dell'avanguardia. Gabinetti, ricerca, difesa, comando centrale. Vabbè, andiamo. Allora, beh, niente. In pratica ci stiamo unendo ad una, diciamo, fazione, no? Ok. Io, Nick, accetto. Ma va? Tutto qua? Opzionale, esplora la sala di orientamento. Benvenuto, Nick. Cacchio. 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 Questo che cos'è? Ma saranno i vari vestiti, vabbè. Vabbè, andiamo. Ancora. Vabbè, buono, va. Allora, è figo, ragazzi. Racconta un po' tutta la storia, cavolo. Madonna. È un museo questo. Un'altra guerra. Un'altra guerra. Un'altra guerra. Un'altra battaglia. Vabbè. Vabbè, andiamo, va. Ma ho capito, qui ci raccontano tutte le battaglie passate tra umani. L'ammirstizio. Un po' lunga è. Un bel po' lunga. Porca miseria, se devo stare qua a guardare tutto, ci metto tre ore. Andiamo. È bello, per carità, è bello perché almeno ho capito un po' cosa è successo alla terra. Però, madonna, ce ne vuole di tempo per guardarselo tutto, il museo. Vabbè, almeno a me basta capire che la terra non esiste più. Bello. Salve, supervisore. Quindi si simula tipo una battaglia. Fico, simulatore di battaglie. Il gioco nel gioco. Fico. Fico. Simulatore nel simulatore. Il gioco nel gioco. Il gioco è semplice. Vadovi come molti tiri di opponenti che puoi, prima che il tuo avviso sia disabilito. Devi vadovi almeno tre tiri di opponenti per passare l'esame. Buon attività, applicante. Sì. Scudi, gravitazione, qua. Io alzerei un po' gli scudi. Oh. Oh. Che miseria. Oh. Scudi. Scudi. Sì, ma c'è un problema che non ho capito. Gli scudi mia? Ah, si stanno a recuperare a mo'. Voglio mettere... Scudi massimi. Scudi massimi. Scudi al massimo. Scudi massimo. Come cazzo, non si è fatto girare a sta nave? Guarda, scudi. Sc deme. All targets eliminated. Come si lanciano i missili? Sto coso dei missili non lo capisco, quindi tiro al massimo balistica. Sconviggi i due bersagli. Locking. Aggancia missili. Mi hanno fatto fuori lo scudo. Me ci sono scontrato per distruggerlo. Mi stanno a far danni, mi stanno a far danni. Come si ripara? Preparati per il prossimo livello. Opzione abbandona. Sì. Ok, scafo sano, ok. Ok, diciamo che sto motore, che poi non capisco missili, con quale caspita di tasto si lanciano. C'è missili. Ok. Ok. E' zikun nuoto, dove vai? Dietro l'astrona... Dietro il cosino o qua? Tier 5. Il mio povero scavo. Scafo, scavo, scavo. Cos'è il grav? Non mi ricordo. Caspita, qua è pieno, qua è pieno, qua è pieno. Non c'ho più scudo, non c'ho più scudo. Mayday, mayday. Premi... E qual'è sto tasto da premere che non capisco? Quindi niente, siamo morti. Niente, siamo morti. Non ho capito qual'è sto tasto per riparare. No, come si escemo di qua? Beh, almeno ho superato uno o due livelli in più. Cioè, però è complicato che non capisco come girare la nave. Non riesco a pilotarla come vorrei. Riavvia livello. No, 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 basta. Esci dal simulatore. Va bene. Quattro livelli. Dovevo superare tre livelli. Ne ho superati quattro, quindi. No, quando ci avrò capito di più? No. Allora, innanzitutto, però, ho sbloccato due punti. Due punti abilitaccio. Commercio. Acquista 5% in meno, vendi di più. Creare bevande. Persuadere. Mi dà una percentuale del 10% in più. Può tornare utile. Poi c'è il grado 2. Per ora mi basta uno. Trovi i crediti aggiuntivi. Sblocca, borseggio, bersagli. No, non mi interessa. Aumenta la salute massima del 10%. Capacità di carico. Aggiungi indicatore furtività. Più ossigeno. Attacchi a mani nude. Eh no. Voglio trovare qualcos'altro. Rilevamento. Geologia. Astrodinamica. Armamenti. L'astronave. Non è che la uso molto. Cioè, sì, la userò, penso. Sacchieggio. Beh, commercio allora, va. Sì, che i soldi servono sempre. Va bene, commercio. Vabbè, buon. Ora manca l'ultimo esame. Una missione. E poi... Sono dei loro. Ok. Dove sei uscito, figliolo? E' vero, 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 tu? Capitano della frontiera. Bane della fletta. Constellazioni brillante. Star of stars. Eeeh... Chi sei tu, amico? Sono una regola di... Constellation. Oh, you are definitely the brightest, biggest star in any constellation. There's no maybe is about it. I have an eye for these things. Not that you're hard to see with that halo on your head. Although at first, I wasn't sure if it was just the glare. Che ti sei sniffato, oggi? Now that I know it's you, what are the odds? And to think, I almost went for coffee instead. E non era meglio? But I changed my routine for one day, and here you are. It's almost like it was meant to be. Va bene, ma che vuoi da me? Sono d'accordo... Sono d'accordo, è chiaramente il destino. Sennò qua sta chiacchieratura lunga. And you can try to fight destiny, but you probably aren't going to win. Although, if I'm being honest, I'd wager you could beat just about anything, even theoretical concepts. But why would you, in this case? Either way, it's such an honor to meet you. Ok. Hey, do you mind if I follow you? No, mo, 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 Sarah, io e lei abbiamo molto di cui discutere. What am I saying? You're a hero, of course you do. Lead the way. E mancata un altro pazzo. Assegna equipaggio. Ah, ok. Vabbè, diciamo che lui è saccheggio, occultamento, sollevamento pesi. Quindi è uno buono a saccheggiare, a non farsi vedere, e può trasportare molte cose. Vabbè, andiamo, eh? Perché tanto se mi deludi ti ammazzo. Gestisci il tuo equipaggio. Puoi riesaminare e modificare l'assegnazione dei compiti di ciascuno tra nave e avamposti. Ah, quindi ci sono più navi e avamposti dove devo mettere gente? Ah, interessante. Assegna a Frontier. Fan adorante. L'ho fatto. Assegnazione Frontier. Sarah. Frontier. Tanto quello c'è. Per ora. Arrivederci, non romperai più le balle, ah, mi raccomando. Vabbè, guarda chi è venuto. Tutti va bene con l'assassamento? O c'è alcune domande che hai bisogno di rispondere prima? Fatto. Ah, quindi questi sono i tuoi numeri che appena arrivano. Sei pronti a ascoltare come hai fatto? Vai, vai. Ok. Allora, guardiamoci. Quindi, guardando i dati. Hai scelto di alcuni murali. Bene. Inquisitive folks tend to do well around here. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? Tier 4. Not too shabby. The techs make us test each level of the sim, too. I can tell you that wave are some real artificial bastards. Good job putting them away. Hell of a job. I might even let you fly me around sometime. Tio, già messi a squadra. Soda, looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only... 10 years service. Pretty standard combat assignments. But your performance in the simulator does mean I can offer a signing bonus. He'll convince you to join the cause. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. Mega beautiful. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. Okay. All you see service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies. Ma si, proteger l'humanità. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contracts that sells you their grandmother five years down the line, are you? Officer's Honor, Sarah. This is Honor's work for Honor's credits. So, you're ready to do the deed? Io sì, sto aspettando a voi. Fantastic. Then just follow me. Ok, allora, quindi diventerò cittadino, però ovviamente facendo parte adesso di questa organizzazione, beh, ovviamente penso che vuol dire che non posso tipo fare il pirata, non è che posso ammazzare la gente. Perché sto firmando come protettore dell'umanità, quindi non è che posso... Cioè, i pirati vabbè, quelli sono pirati, sono cattivi, ma la gente normale no. E in dieci anni divento cittadino, eh? Hai capito? Cosa ne devo fare? Mi devo buttare di sotto come prova di forza? Me butto? E mo? Giusto. Cosa ne devo fare? è super et ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities? And to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Lo giuro! Let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, the only thing left is getting you that probationary mission. And what I've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plan on Tau City 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Places as isolated as they come. So Brass wants the Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau City 2 count on you? Eh, direi proprio di sì. That's the spirit. Head down to the space port and talk to the crew chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Oh, and your advance. Give it all out there. Supra e Ultra. Supra Biturbo! Ok, raga. A posto. Ho fatto praticamente un'ora di video. Sì, e beh, d'altronde questo è un gioco lungo, quindi si deve fare una cosa lunga. Però, adesso è abbastanza lungo. Quindi, salvo la partita e direi che per ora finiamo qui. Quindi, prossimo gameplay, missione di prova e poi cerchiamo anche di andare avanti con... Vabbè, la storia principale direi. Quella di Sara. Sicuramente è la storia principale. Quella del manufatto. Quindi, raga, concludo qui. Spero vi sia piaciuto il gameplay. In descrizione c'è un link per comprare questo e tanti altri giochi scontati e molto altro. Ci si becca, raga. Ciao, alla prossima! Ciao!